Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Beni accontanti per un valore complessivo di 30 milioni di euro sono stati confiscati dalla polizia, pericolosi esponenti organici a cosche di Indrangheta ed appartenenti alla famiglia dei Casa Monica. Si tratta di 10 unità immobiliari tra Calabria, Roma e Ardea, 21 tra società e imprese individuali con sede a Roma, Milano, Sora, Avellino, Caserta e Benevento, 25 complessi aziendali, 24 auto tra cui Maserati, Spider e Porsche, 68 rapporti creditizi per un complessivo saldo attivo superiore ai 400 mila euro e una polizza pegno relativa a preziosi tra cui triorologi Lorex. I beni erano già stati sequestrati nel corso di un'importante operazione degli investigatori della divisione anticrimine della Questura di Roma, avvenuta a maggio di due anni fa. Quel maxisequestro è diventata confisca portata a termine dalla divisione anticrimine della Capitale nell'ambito del procedimento di prevenzione denominato all'ombra del Cupolune. Con gli stessi provvedimenti per la perdurante ed elevatissima pericolosità sociale, è stata disposta anche la misura della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni nei confronti di Francesco Filippone, figlio del più noto Rocco Santo, arrestato insieme a Giuseppe Graviano in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, convenzionalmente denominata Andrangheta Stragista e di Salvatore Casamonica. In particolare con l'ausilio di prestanomi familiari e nonni sodali hanno acquistato locali commerciali soprattutto nel settore bar ristorazione in zone ad alta vocazione turistica della Capitale tramite il rinvestimento di cospicue somme di denaro di provenienza illecita derivanti dal traffico di stupefacenti e usura avviando anche sbariate società cartiere dedicate al riciclaggio di denaro.